Quando si avvicina l'inverno si pensa subito alla neve che cade, immaginando per un momento di essere in una località di montagna per poter sciare e divertirsi a compiere slalom nel bel mezzo delle Dolomiti. Peccato che lo slalom quotidianamente sia diventato lo sport preferito, o meglio dire odiato, dagli automobilisti della strada provinciale 12, trani, corato, ironia a parte, quella che vi mostriamo oggi è un'arteria stradale importantissima che collega la provincia Bat con quella dell'area metropolitana di Bari e che costeggia, tra le altre cose, anche l'autostrada. Da tempo la SP12 è diventata un pericolo vero e proprio per tanti motivi tra le quali buche che si sono trasformate in crateri in entrambe le direzioni rattoppiche con le forti piogge degli scorsi giorni si sono riaperte, carreggiata completamente buia di sera, pozzanghere che si formano ad ogni minimo accenno di pioggia e rendono pericolosa la sua percorrenza, anzi la rallentano. La provincia Bat aveva anche candidato un progetto ad un finanziamento ministeriale da 480.000 euro per realizzarne lavori strutturali irrisolutivi. Per il momento però ci si affida il buonsenso di ogni automobilista affinché, come purtroppo accade ormai da tempo sulla SP12, non si mietano altre vittime.